Buongiorno ragazzi, vi dico un segreto sul salario minimo che nessuno dice. Allora, oltre che l'Italia è uno dei pochi paesi che non ha il salario minimo, anche qua in Slovacchia c'è sopra i 650 euro al mese, il minimo in Slovacchia. In Italia, oltre a non avere il salario minimo, c'è da dire un'altra cosa importantissima che nessuno fa notare, messa insieme a questa cosa qua. Non essendoci il salario minimo, l'Italia è l'unico paese in Europa che da 30 anni non ha aumentato i salari. Cioè sono diminuiti il potere d'acquisto del salario, è diminuito l'unico paese in Europa dove il potere d'acquisto del salario è diminuito rispetto al 30 anni fa. Parliamo del 92, quindi nel 92 c'erano i salari più alti di adesso, ok? Perché è diminuito, vi rendete conto? Non c'era ancora l'euro. Potete immaginarvi cosa vuol dire questa cosa qua? Nessuno ne parla. Gli altri hanno il salario minimo e aumentava il potere d'acquisto. Da noi no. Tenetelo presente e fate girare questo video. Un abbraccio. Grazie. 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 Grazie.